Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di E-Core Ocean XL un tablet con una diagonale da ben 6,44 pollici se siete tra quegli utenti che non trovano l'utilità di avere un tablet con diagonali da superiori a 7 pollici ma la diagonale degli smartphone per voi è troppo limitata allora forse questo è il dispositivo che fa per voi andiamo a vedere come funziona andiamo subito a parlare di ergonomia quindi di questo E-Core vi invito a rivedervi l'unboxing per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche e dimensionali di questo mega phablet vi parlo di ergonomia dicevo ma di ergonomia in effetti non si può parlare è davvero difficile utilizzare questo dispositivo con una mano sola anzi praticamente impossibile addirittura anche quando si tiene all'orecchio per telefonare diventa difficile usarlo con due mani e si deve tenere con due mani soprattutto in caso di mani particolarmente piccole penso a una ragazza ad esempio e questo è oltre che scomodo anche se vogliamo un pochettino ridicolo ma insomma questa è una cosa che chi compra un simile prodotto deve tenere conto un'altra cosa per quanto riguarda la scomodità vi parlo dei tasti qua sotto che non sono retroilluminati sono ben visibili di giorno grazie alla cromatura ma di notte si fa un po' fatica insomma bisogna sapere a memoria dove si trovano i vari tasti e cambiando spesso telefono come nel mio caso diventa un pochettino problematico vi parlo invece di batteria questo è un vero punto forte di questo dispositivo perché la batteria da 3500 mAh ricordiamo permette di superare agevolmente la giornata di fare oltre 5 ore di display acceso si fanno due giorni di uso abbastanza elevato anche senza attivare il risparmio energetico che anche in questo Mediatek viene attivato in automatico ogni volta che noi spegniamo il terminale non so se è una scelta tecnica o se è un bug comunque ha fatto stare che bisogna starci attento se vogliamo sfruttare davvero tutta la potenza di questo phablet parliamo ora di parte telefonica la parte telefonica di questo phablet è buona andiamo a chiamare il 187 e attiviamo il viva voce ecco fatto alziamo il volume Telecom Italia le dai benvenuto nel suo servizio clienti disponibile anche consultando il sito telecomitalia.it la chiamata è gratuita allora abbiamo visto che c'è la possibilità di registrare le chiamate c'è la ricerca rapida in rubrica l'audio è un pochino basso se vogliamo comunque è sempre udibile il basso è sia dalla capsula auricolare che dal viva voce in realtà dal viva voce è più alto rispetto alla capsula auricolare però comunque è un audio buono sempre è chiaro, limpido anche dall'altra parte ci sentono bene per quanto riguarda la ricezione vi dico che è ottima su entrambi gli slot della sim mi sono scordato di dirvi che l'assemblaggio è buono nonostante qualche scricchiolio se andiamo proprio a premere la parte posteriore ma nulla di che questo scalino tra l'altro agevola un po' l'ergonomia dello smartphone quando lo si tiene con una mano per quanto riguarda il peso c'è ovviamente sono 210 grammi si fa sentire ma comunque è ben distribuito intanto volevo vedere se riuscivo ad aumentarvi un pochettino la luminosità perché quando andiamo a parlare di display e lo facciamo subito vi dico che il display è bello sia a livello cromatico che a livello di definizione ma non è molto luminoso il display è un'unità da full hd come vi avevo detto la luminosità c'è si vede abbastanza bene ma si poteva forse fare di meglio sotto la luce diretta del sole ma comunque ripeto non è un grandissimo problema anche i neri sono buoni il sensore di luminosità funziona bene per quanto riguarda l'adattamento alla luce diurna parliamo ora dopo le chiamate e il display parliamo di sms la gestione sms è ottima come in tutti i mediatek con la possibilità qua di predefinire una sim oppure di fare chiedere sempre ecco però state vedendo che non ho la tastiera stock che vi vado a rimettere qui la tastiera standard di android ecco qualche problema lo abbiamo trovato nella scrittura dei messaggi proviamo a scrivere una frase di esempio magari scriviamola nel campo di testo e non su quello del numero allora in questo caso ho scritto bene anche corretto un attimino ma perché non riesco a scrivere molto veloce con la camera davanti ma vi dico che se io vado a scrivere tanto veloce si mangia qualche lettera e qualche spazio questo succede anche con le tastiere alternative ma la swift key che avevo installato in precedenza mi corregge più facilmente gli errori e quindi la trovo migliore per l'uso di questo tablet non sappiamo non sono riuscito a capire se questo è un problema di touch o di ottimizzazione software anche se la potenza software c'è obiettivamente ma fatto sta che la tastiera non è così comoda vi parlo ora di email qua ho già aperto una mail il difetto è purtroppo quello del client standard di android che anche su un display di simili dimensioni ci costringe a fare un pan e uno scroll per vedere tutta l'email una cosa decisamente assurda su una simile diagonale parliamo di 6,44 pollici insomma andare a fare pinche e pan è una cosa un pochettino fastidiosa dalle email passiamo alla navigazione web apriamo il browser sta già caricando il nostro sito che su questi mediatek continua ad avere qualche problema con i banner potete vedere non riesce a renderizzare bene la pagina proviamo a cambiare comunque sito andare a prendere il corriere della sera che si dovrà ricaricare perché non è caricato tutto lo andiamo a fare ricaricare ecco fatto avete visto la possibilità di richiedere il modo desktop durante la navigazione ovviamente è possibile che abbiamo qualche problema di velocità con il router perché sono dietro a passaggi di operatore e secondo me qualche piccolo problema me lo stanno portando per quanto riguarda il browser vi dico che a parte sul nostro sito la navigazione è sì buona ma non così buona come la generazione di processori mediatek precedenti qui su questo octa core non riusciamo ad avere prestazioni molto soddisfacenti per quanto riguarda la navigazione web io vorrei far caricare la pagina per farvi vedere come funziona ma a questo punto non ci riusciamo ritorniamo sul nostro sito anche qui allora facciamo una bella cosa proviamo ad escludere la rete wifi e proviamo a navigare in hspa plus a vedere se cambia qualcosa ovviamente adesso la rete non ci aiuta perché ha switchato in edge quando fino a poco fa prendeva in hspa plus direi che la prova browser la rimandiamo un attimo io vi riattivo il wifi tutto in diretta non vi taglio nulla così potete vedere anche com'è l'uso quotidiano di questo phablet a livello di operazioni giornaliere e andiamo a parlare di fotocamera ecco la fotocamera è da 13 megapixel la troviamo qua in basso vi faccio vedere un po' com'è strutturato il software qui alcune modalità abbiamo alcuni problemi di traduzione che non ci aiutano molto a capire cosa servono le varie scene comunque è interessante la modalità inseguimento movimento che posso fare inseguire un soggetto che si sta muovendo l'hdr scusate la panoramica la modalità di scelta delle scene automatica e le foto standard qui le impostazioni generali del dispositivo qui le impostazioni della foto come potete vedere in 4 terzi la dimensione massima è 13 megapixel qui quelle dei video non possiamo impostare la risoluzione massima ma solo la qualità che comunque i video vengono girati a 1080p vi faccio vedere la velocità di scatto prendiamo il nostro classico soggetto di test aspettiamo che metta a fuoco ecco una cosa che ho notato è che la messa a fuoco non è così rapida viene più comodo andare a fare un tap per poter scattare la foto ecco vedete qui la foto appena scattata andiamo a vedere gli altri risultati degli scatti qui il video che vi faccio vedere dopo questa è una foto in esterno con tanta luce non è male la fotocamera di questo ecore questa è scattata con hdr questa senza qui le macro che sono buone e negli interni invece soffriamo abbastanza vi è rumore video praticamente in ogni parte della foto e in piena notte con il flash ancora peggio tra l'altro il flash non è tanto illuminato non si vede molto molto bene e di notte con il flash per quanto riguarda i video sono buoni provate la prova sulla recensione e sul nostro sito non sono per niente male l'audio è buono acquisito solo non ho trovato la modalità per poter mettere il fuoco automatico sui video non so se non è previsto l'autofocus o sono io che non l'ho trovata ma fatto sta che comunque bisogna tappare per andare a andare a recuperare il fuoco quando lo smartphone il phablet lo perde dai video girati andiamo ai nostri video demo partiamo subito con il 1080p per farvi vedere questo display davvero buono intanto vi dico che non vi ho detto prima che anche gli angoli di visione sono assolutamente soddisfacenti perde solo un pochino se messo così di taglio godetevi qua i contrasti e i colori ve lo avvicino per far vedere anche la definizione come sia decisamente buona allora un display tutto sommato di livello medio alto per quanto riguarda gli altri formati riproduce tutto vi prendo il dvx che non viene riprodotto con l'audio ac3 come su tutti i mediatek riproduce anche gli mkv senza problemi questo è un mkv 720p e viene riprodotto senza il minimo problema per curiosità già che siamo qua proviamo a tornare sul browser e vedere se questi 2 giga di ram lo stanno mantenendo attivo per quanto riguarda il nostro sito abbiamo visto come si comporta ecco il corriere addirittura non è rimasto in background andiamo a vedere nella cronologia se riusciamo a recuperarlo quindi prova browser divisa in due per questa recensione ovviamente se il video vi sembra troppo lungo vi consiglio di schippare le parti di caricamento e quelle relative alla prima prova del browser si ha caricato molto meglio rispetto a prima come potete vedere intanto già in caricamento vi faccio vedere come si comporta la fluidità il corriere è un sito davvero molto molto pesante però se io vado a provare un doppio tap abbiamo uno zoom dovrebbe avere anche la rimpaginazione del testo testo che non vediamo al momento perché ancora non è stato renderizzato aspettiamo un secondo non stressiamolo più di tanto la ricezione wifi non è tanto buona per il semplice fatto che qui altri dispositivi prendevano molto meglio ecco nonostante sia riuscito a caricare non abbiamo una renderizzazione completa della pagina comunque vi dico che dalle prove precedentemente fatte la navigazione è soddisfacente ma non così buona intanto vi mostro il multitasking come è stato implementato non abbiamo la possibilità di eliminare tutto con un solo tap ma dobbiamo andare a fare uno slide verso l'altro del multitasking per quanto riguarda la parte gaming ci andiamo subito apriamo il nostro real racing vediamo qui come sia bella la sfumatura di azzurro nel display come siano assolutamente soddisfacenti i tempi di caricamento grazie al processore octa-core la gpu mali 450 questo si è un salto avanti rispetto ai mediatek di scorsa generazione sentite anche il volume come è più potente nella parte multimediale piuttosto che nel viva voce specchietti attivi ovviamente aspettiamo di partire e via vedete il volume ve lo lascio un po' più alto in modo da farvi apprezzare anche la ricchezza del suono assolutamente nessun problema di sorta nei giochi e poi giocare su questa diagonale ecco è davvero buono così come lo era vedere i contenuti multimediali parlo dei filmati di test su una simile diagonale dà davvero soddisfazione andiamo ora a vedere un po' di personalizzazioni software innanzitutto vi faccio vedere qua dal drawer come vi sia la possibilità di cambiare i temi del dispositivo così temi che non vanno a cambiare solo le icone e il drawer e comunque la home ma vanno a cambiare tutto il dispositivo compreso lo stile della status bar compreso lo stile delle impostazioni di sistema che prima non vi ho fatto vedere ma erano quelle standard di android possiamo lasciare anche queste per vedere un po' di differenze con il modello con il tema base qui la versione di android 4.2.2 speriamo in futuri aggiornamenti purtroppo tutti i mediatek sono fermi a questa versione vi faccio vedere anche la capacità di memoria sono 16 i gigabyte qui la possibilità di impostare come disco di scrittura predefinita anche un eventuale micro SD qui lo spazio totale disponibile nella formatazione dell'archivio interno interno scusate e nella memoria telefono la possibilità come dicevo della scheda SD e dell'USB on the go quindi connettività completa intanto vi dico che c'è anche la possibilità di essere connessi come archivio di massa su un computer guardate come è cambiata tutta l'interfaccia grazie al cambio di tema temi che sono comunque anche scaricabili dal web tornando alle impostazioni software vi faccio vedere alcune caratteristiche interessanti purtroppo non tutti i menu sono tradotti in italiano cosa strana per una casa che è comunque italiana non è stante importi dall'oriente vediamo come la casa orientale probabilmente ha implementato delle feature ulteriori che però sono rimaste tradotte in inglese qui i gesti da fare tramite sensore senza toccare con la mano il display un'altra implementazione è lo smart wake tutti i modi per sbloccare il display io ho attivato ad esempio il doppio click per lo sblocco e una C per aprire direttamente la fotocamera ve lo faccio vedere subito blocchiamo il dispositivo doppio tap per sbloccarlo riblocchiamo e se io vado a tracciare una C sul display mi parte direttamente la fotocamera vi faccio vedere un altro menu interessante quello che qui lo troviamo sotto sicurezza oltre le classiche impostazioni di sicurezza possiamo vedere come vi sia la possibilità di richiedere l'accesso super user si avete capito bene praticamente il root già fatto solo con un click questa è un'altra impostazione che praticamente ogni applicazione che chiede un permesso ci viene notificata a volte può questa ho scritto app permission ci accorgiamo delle implementazioni fatte successivamente alla versione stock di android perché sono in inglese qua l'app permission che praticamente mi notifica ogni volta che un'applicazione mi chiede un permesso particolare può essere fastidiosa io l'ho levata non vi sono impostazioni purtroppo per l'uso con una mano le icone sono grandi le scritte sono grandi sembra un telefono per i povedenti non vi sono non vi è nessuna particolare cura per lo sfruttamento di questa diagonale nonostante sia godibile ripeto nei contenuti multimediali è un peccato che non sia stata sfruttata meglio con magari un multi windows o qualche implementazione che ci poteva inventare per sfruttare una simile diagonale andiamo ora a parlare sempre di multimedialità e passiamo alla musica per sentire come si sente la nostra canzone di teste ecco fatto torniamo indietro allora si sente bene la qualità sonora è buona ma anche qua il volume poteva forse essere un pochettino superiore allora cosa dire di questo Ecore Ocean XL sicuramente è un dispositivo particolare davvero grande da portare in mano purtroppo abbiamo qualche piccolo problema software avete visto la navigazione web ma interessante comunque la personalizzazione totale che si può avere con i temi vi dico che comunque il prezzo di 299 euro è a mio parere onesto per comunque le caratteristiche tecniche di questo smartphone questo phablet questo mini tablet chiamatelo un po' come vi viene meglio l'ottima la durata della batteria manca un po' di cura dei dettagli io penso che una casa italiana come Ecore quando importa dal mercato orientale dovrebbe prendersi un pochino la briga di andare a verificare che tutto sia stato fatto bene dalla casa originale e non lasciare magari qualche piccola parte di menu in inglese perché è una cosa che va a far perdere un po' di qualità generale al prodotto comunque un prodotto che sicuramente sarà per una certa tipologia di utilizzatori ma che nel complesso funziona bene che ha alcuni lati a favore come intanto vedete il led di stato come la durata della batteria e la godibilità di un simile display ma anche alcuni a favore come abbiamo visto prima principalmente nell'ottimizzazione magari ulteriori aggiornamenti risolveranno questi piccoli problemi per questa recensione è tutto un saluto dall'SCinabro per androidblog.it risolveranno risolveranno